PFAS, ovvero composti polie per fluoro alchilici, sostanze chimiche che causano problemi alla salute che, secondo un'inchiesta di Greenpeace Italia, spesso si trovano anche nell'acqua che serve le nostre abitazioni. Secondo l'indagine, elaborata sulla base dei risultati dei campionamenti chiesti dall'Associazione ADATS e ai gestori delle acque potabili della Lombardia, nel 19% dei casi dei campionamenti analizzati sono state riscontrate la presenza di questi agenti inquinanti, dannosi per la nostra salute. Per quanto riguarda la provincia di Lecco, su 39 campioni di acqua presi in considerazione, due, provenienti dall'area del Meratese, evidenziano la presenza di queste sostanze. Si tratta di una casistica fra le più basse delle province lombarde. Per Greenpeace, l'indagine condotta in Lombardia svela l'esistenza di un'emergenza ambientale e sanitaria fuori controllo che, prosegue l'Associazione, le autorità nazionali e locali continuano a sottostimare nonostante sia chiaro che la contaminazione da PIFAS coinvolga migliaia di persone spesso esposte al rischio in modo inconsapevole. Una posizione contestata da Water Alliance, la rete che unisce tutti i gestori pubblici lombardi del ciclo dell'acqua. Quanto esce dai rubinetti non è affatto pericoloso, garantiscono da Water Alliance. Sono proprio i costanti controlli effettuati dalla rete dei laboratori delle 13 aziende pubbliche e gestori a consentire di conoscere con precisione la qualità dell'acqua. Da tempo queste aziende sono impegnate sul fronte della sicurezza e della riduzione dei PIFAS nelle acque di falda che però non va confusa con quella che beviamo. Prima di uscire dal rubinetto, prosegue la notta, l'acqua viene sottoposta a un capillare processo di potabilizzazione che esclude qualsiasi danno per la salute. Bevete serenamente l'acqua del rubinetto, ribadiscono i gestori lombardi. Oltre a essere sicura, è una scelta che aiuta a risparmiare e ridurre il consumo di plastica.